Aiaiai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. C'è Spampi che non va, scusami, non va, cazzo. Vai Spampi! Ehi! No, non va, scusami. No, non va, scusami. No, non va. No, non va. No, non va, scusami. E' un sacco. E' un sacco? Grazie a tutti. A zero. La seconda volta però. A zero. 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 A zero.